Allora, vediamo oggi come avevamo già preannunciato il seguito della descrizione attraverso casi d'uso. Abbiamo visto nelle due lezioni precedenti la presentazione con i diagrammi di casi d'uso che di fatto costituiscono un indice di quelle che sono tutte le funzionalità che il sistema informativo potrà offrire ai suoi utenti nei loro diversi ruoli. Però di ciascun caso d'uso ci siamo fermati essenzialmente a una descrizione. L'organizzatore crea l'hackathon. Questo finora è tutto ciò che abbiamo sul singolo caso d'uso. Adesso andiamo a vedere come fare a dare una descrizione anche qua formale e dettagliata di come vogliamo che si svolga questa interazione tra utente e sistema. E questo lo facciamo attraverso uno strumento che chiameremo narrativa dei casi d'uso, descrizione narrativa, descrizione estesa dello svolgimento di un caso d'uso. Quindi parliamo a questo punto di un singolo caso d'uso. Ci sono molti modi di descrivere cosa avviene. Non c'è nessun metodo standardizzato come l'UML o qualche rappresentazione che sia universalmente accettata. Allora per fare una scelta che però non fosse totalmente arbitraria e su cui ci fosse anche un po' di documentazione a contorno se qualcuno servisse, abbiamo scelto tra i vari modelli proposti per la descrizione dei casi d'uso, questo che viene chiamato un modello Swede che è stato proposto inizialmente da un ricercatore che si chiama Cockburn proponendo un template che lui ha chiamato Fully Dressed. Se andate a leggere l'articolo, mi pare che sia quello che c'è sul primo link che vi ho posto qua lui Fully Dressed lo contrappone a casual. Dice quando tu vai da qualche parte, a seconda del contesto in cui ti trovi, o ti vesti in modo informale, casual oppure ti devi vestire a puntino, Fully Dressed. E quindi contrappone quella che noi avevamo chiamato la descrizione brief del caso d'uso, cioè una descrizione semplice tra amici, informale, rispetto a una descrizione formale con tutti i crismi, con tutti i punti, con tutte le caratteristiche che deve avere per essere accettata anche in un contesto più ufficiale. Quindi è rimasto poi questo nome legato alla metafora che ha fatto per capire, per spiegare, diciamo così, i diversi livelli di descrizione che possiamo avere sui casi d'uso. Allora, questo modello è un modello relativamente semplice, non ci sono tabelle, non ci sono grafici, semplicemente una colonna di punti, una serie di punti, una serie di voci, a cui occorre dare una definizione. E è composta essenzialmente di due parti. Ci sono dei dati a corredo del caso d'uso, dei metadati, dei dati anagrafici, delle descrizioni generali, e poi c'è lo sviluppo del caso d'uso vero e proprio, cioè la sequenza di azioni o mail di interazioni che avvengono tra utente e sistema. Questa sequenza, che poi è il cuore, cioè effettivamente cosa avviene, che informazioni si scambiano a questi due, questa sequenza viene data come elenco numerato, come lista numerata, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, in cui si descrive, adesso andiamo nel dettaglio ovviamente, ma si descrive nella sequenza principale quello che è lo scenario più favorevole, cioè lo scenario, la sequenza di interazioni necessaria per raggiungere successo nel caso d'uso, cioè affinché l'utente possa raggiungere l'obiettivo che di fatto è il titolo del caso d'uso. E poi, a parte, definiamo delle estensioni, cioè dei percorsi alternativi di che cosa potrebbe succedere in alternativa al caso più favorevole. Cioè il caso più favorevole è che io entro in tre clic, faccio ciò che devo fare, ma poi possono esserci molte cose che vanno in modo diverso, perché sbaglio a inserire, perché il dato è mancante, eccetera, eccetera, e allora anche qua vado ad elencare, dal punto di vista sempre dell'interazione tra utente e sistema, che cosa, quali sono le alternative, qui vengono chiamate, questo modello, vengono chiamate estensioni, cioè tutti i percorsi alternativi e aggiuntivi rispetto al percorso principale. Quindi, quali sono i campi che compone questo modello? Allora, ricordiamoci sempre di immaginare noi stessi, nel leggere questi campi, immaginiamoci qua, tra l'utente e il sistema. Noi non possiamo, in quel punto lì dove c'è la freccia del mouse, noi siamo lì, possiamo vedere ciò che fa il sistema? No, siamo fuori dal sistema. Possiamo vedere ciò che pensa l'utente? No. Possiamo vedere ciò che fa l'utente che non coinvolge il sistema? No. E che cosa possiamo vedere? Possiamo solo vedere le comunicazioni che passano tra utente e sistema. Questa è la chiave di descrizione del caso d'uso. Mi metto qua, taglio questo punto e dico, ok, adesso andiamo a vedere cosa passa in un verso, quindi quali sono le informazioni che l'utente fornisce al sistema, e poi vedrò solo qual è l'informazione che il sistema fornisce di ritorno all'utente. Ma non vedo che cosa ci ha fatto il sistema con questa informazione e quindi come è arrivato il risultato. Cioè non vedo l'elaborazione che il sistema fa, vedo il risultato, o almeno il parco del risultato dell'elaborazione del sistema che viene coinvolgliata sull'utente. Anche perché non vogliamo ripetere quello che già sappiamo. Cioè che cosa fa il sistema? Quali sono i passaggi logici che lui deve elaborare? Ce l'abbiamo già descritto nella TTI diagram. Sappiamo che cosa deve fare il sistema, già. Quello che ci siamo cercando di descrivere qua è come il sistema permette all'utente di farlo, di eseguire queste funzioni, e poi quali sono tutti i dettagli di questo tipo di interazione. Quindi cerchiamo di concentrarci solamente su questa parte. Quali informazioni vengono veicolate in un senso o nell'altro? Cioè quale dato l'utente fornisce, quale azione l'utente compie sul sistema informativo, fregandosi di tutte le altre azioni che l'utente possa compiere, solo quelle che interdiscono col sistema informativo, e quali sono le informazioni che torno indietro. Cerchiamo di usare sempre questo livello, di usare sempre questo termine informazioni, ovvero perlomeno in mente il termine informazioni, perché non ci interessa che poi quell'informazione sia scritta in una pagina, in due pagine, in due righe una sotto l'altra, oppure due campi affiancati. Non stiamo ancora pensando alle videate o alle pagine web. È chiaro che ci stiamo avvicinando alle videate effettive, ma per il momento, in questo caso d'uso, cerchiamo ancora di mantenerlo il più possibile neutro, indipendente rispetto a quello che è poi lo strumento di visualizzazione, perché poi magari la struttura è un campo che sull'interfaccia web ha i nomi e cognomi affiancati, nell'interfaccia mobile ha i nomi sopra e i cognomi sotto, per ragione di spazio. Ecco, queste differenze qui non ci interessano. O il fatto che, come per dire, stanno facendo ultimamente Gmail, è troppo difficile, per l'intelligenza media degli utenti si vede che rende difficile scrivere il login e la password nella stessa videata, non so se avete notato, da un anno a questa parte vi chiede il login su una pagina e la password sull'altra, così non vi stressate troppo nel dover scrivere troppi dati su una pagina sola. Se lo fanno, un motivo ci sarà. L'allargare l'utenza significa anche abbassare il livello medio. Ma va bene. Quindi questi sono dettagli di come viene realizzata l'interfaccia. Ce ne occuperemo nel capitolo successivo, che è quello proprio dell'interfaccia utente. Per ora occupiamoci di quale è l'informazione che viene raccolta. Nel caso di Google, l'indirizzo di mail e la password. Queste sono le due informazioni che l'utente fornisce al sistema. Ok, quindi questo è tanto per darci il contesto. Immaginiamoci sempre di essere qua e non poter vedere null'altro. Allora, come descriviamo che cosa avviene? Ciò che vediamo dal nostro punto di osservazione è un po' l'intermedio. Beh, innanzitutto la descrizione del caso d'uso è fatta da una serie di campi. Quindi immaginiamoci, poi faremo un documento Word semplicemente. Il titolo del caso d'uso. E il titolo del caso d'uso è l'obiettivo che voglio raggiungere. Che l'attore primario vuole raggiungere. E il suggerimento che viene dato qua è che l'obiettivo è bene, è più facile scriverlo se lo esprimiamo con un verbo. Noi l'abbiamo già fatto, eh. Apre le iscrizioni, crea l'hackathon, invita il giudice, sfoglia gli iscritti. L'organizzatore crea l'hackathon. Quindi questo è l'obiettivo del caso d'uso che è anche il titolo del caso d'uso stesso. Una breve frase che parte col verbo e questo verbo descrive qual è l'azione finale che vogliamo ottenere. Cioè l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Dopodiché il secondo punto è lo scope, l'ambito. Di quale parte, se stiamo descrivendo un sistema informativo complesso, di quale parte del sistema informativo stiamo parlando? Qual è il modulo, il componente, stiamo sempre pensando in modo funzionale, il componente funzionale a cui facciamo riferimento? Nel caso, ad esempio, di crea l'hackathon, sappiamo che questo è un caso d'uso a livello user goal specifico, che fa parte di gestione l'hackathon. Che era un caso d'uso a livello summary. Quindi l'ambito, lo scope, nel quale è definito il caso d'uso a livello user goal è, può essere, sicuramente rilevante dire qual è il caso d'uso a livello summary che lo contiene. Quindi quando abbiamo una descrizione completa con un summary e lo user goal, lo scope del caso d'uso è il caso d'uso a livello summary che lo contiene, all'interno del quale è collocato. Oppure possiamo anche, in aggiunta, in alternativa, dare un'informazione di scope di tipo architetturale. Cioè, questo è un caso d'uso che avviene sull'applicazione mobile, su quel modulo, su quel componente. Questo è un caso d'uso che invece avviene nell'applicazione web o avviene nell'interfaccia di amministrazione. Però l'interfaccia di amministrazione è già un caso d'uso a livello summary. Quindi qui dentro ci descriviamo qual è l'area funzionale, cioè il caso d'uso summary, in cui ricade il caso d'uso ed eventualmente l'area architetturale, l'ambito architetturale. Cioè, in un caso in cui il sistema sia fatto di più componenti, qual è la componente all'interno del quale si svolge questo caso d'uso. Dopodiché, il caso d'uso può essere descritto a livello summary, a livello gergole, a livello self-function. E quindi qua esplicitiamo qual è il livello a cui lo stiamo descrivendo. Nel 99% dei casi per noi sarà il livello di gergole. Perché effettivamente a questo livello riusciamo a vedere il dettaglio delle azioni. E poi c'è un campo con un nome strano, intention in context. Di fatto è una rilettura, scritta un po' più per lungo, ma in modo un pochino più esteso, dell'obiettivo. Cioè, qual è l'intenzione, l'obiettivo, la volontà che l'utente del sistema vuole raggiungere e in che contesto avviene? Questo. Quindi, spiega un po' meglio il titolo. Il caso d'uso, il titolo del caso d'uso è necessariamente sintetico. In vita giudici è già scritto la piattaforma. Questa è una riga, un titolo non può essere tanto più lungo. È già lungo così, questo è già parecchio lungo. Quindi, questo obiettivo lo riprendiamo nell'intention in context, in cui spieghiamo che l'organizzatore, una frase di due righe, ecco, l'organizzatore intende invitare un giudice via mail qualora sia stato scelto e non fosse ancora iscritto alla piattaforma. Una cosa di questo genere. Quindi, quando il titolo può essere una cosa molto sintetica, l'intention in context spiega un po' meglio cosa vuole e anche un pochino il perché, il context. Il contesto all'interno del quale nasce questa intenzione. Perché lo vuole fare? Sta cercando di fare qualcosa di più grande. Quindi, nella fase, potremmo anche dire, nella fase di, poi facciamo un esercizio completo, quindi io sto dicendo solamente spettazione di frase e poi le mettiamo in bella dopo, eh, scegliendo quale caso d'uso vogliamo. Nella fase di definizione dei giudici, l'organizzatore intende invitare una persona non ancora iscritta alla piattaforma. Questa potrebbe essere una formulazione che ti dà il contesto e ti dà l'azione specifica. Ma poi vediamo essenzialmente come il titolo, l'obiettivo, descritto in una frase e non solamente in un titolino. Frase, dicevo, in un paio di righe normalmente. Tra righe se scrivete largo. Poi viene il succo. Cioè, finora questi sono dati anagrafici, no? Come ti chiami? Che livello sei? Dove sei collocato? E spiegami un po' meglio il titolo. Non abbiamo ancora aggiunto un granché. Qua comincia invece ad esserci il contenuto del caso d'uso. La cosa più importante del contenuto ovviamente è chi è l'attore primario. Ma questo lo sappiamo già. Se abbiamo fatto il diagramma dei casi d'uso, l'attore primario ce l'abbiamo già lì. È già disegnato. Quindi si tratta semplicemente di riportarlo. Quindi non abbiamo aggiunto nulla. Eventuali attori di supporto. Quindi se il caso d'uso prevedeva l'interazione contemporanea di più attori, quindi un primario che è quello che ha l'obiettivo, è attore di supporto che in qualche modo devono fare alcuni passaggi, quindi indichiamo qua quali sono gli attori opzionali, come sempre, di supporto. I campi che hanno un asterisco sono campi opzionali. Nel senso che non in tutti i casi d'uso ci sono. Anzi, questo, degli attori di supporto, quasi mai ci sarà. Quindi questi campi di questo template, li analizziamo tutti, ma poi nei casi specifici alcuni di questi possono non essere specificati, se non ho nulla da dire. Ok, quindi gli attori, attore primario ed eventuali attori di supporto. Poi abbiamo una voce, stakeholders interest, cioè l'interesse degli stakeholders nel caso d'uso. Allora, noi abbiamo uno stakeholder che c'è sempre, stakeholder, ricordiamo, è una persona che può essere un utente del sistema, ma potrebbe anche non esserlo, che ha un interesse positivo nel fatto che questo caso d'uso si concluda con successo, si concluda positivamente. Ok? E quindi l'obiettivo dell'attore primario venga raggiunto. Allora, è chiaro che l'attore primario che ha un obiettivo è il primo interessato al fatto che il proprio obiettivo venga raggiunto. Quindi tra gli stakeholder di sicuro c'è l'attore primario. È talmente di sicuro che possiamo anche non scriverlo. No? È ovvio che a me interessa fare ciò che io voglio fare. Dire che l'attore primario è uno stakeholder significa proprio dire questa frase. Chiamo attore primario colui che si è dato l'obiettivo. Stakeholder colui che ha un interesse, dire che l'attore primario è uno stakeholder significa dire che se io mi do un obiettivo mi interessa raggiungerlo. Perché possiamo fondare una nuova filosofia su questa frase, ma a me dà poca informazione. Quello che interessa è capire se ci sono altre persone, altri ruoli, utenti o non utenti della piattaforma, che invece possono avere un interesse positivo, interesse nel senso lato, interesse economico, interesse aziendale, interesse al buon funzionamento, interesse perché a loro poi permette di fare altre cose dopo. Immaginate qualcuno che sia contento se questa cosa viene fatta, per quale motivo? Tante volte gli stakeholder sono le persone che sono in qualche modo sulla linea di comando di un determinato servizio. Cioè il responsabile, il manager di una determinata area è in qualche modo uno stakeholder del fatto che i processi che lui deve supervisionare funzionino correttamente. Il cliente in qualche modo a volte può essere uno stakeholder, il fatto che quella procedura funzioni gli permette di arrivare, di avere un prodotto, però poi chiaramente vediamo di caso in caso. Chiediamoci, proviamo a chiederci, forse è più facile ragionare al contrario, se questo caso d'uso fallisse e funzionasse male, chi si arrabbia? Oppure se va bene, chi è contento, ma è più facile vedere l'altro negativo. Dopodiché, l'altro campo, sarebbe forse l'ottavo campo di questo template, precondizione. La precondizione è una condizione, quindi un fatto, che si deve verificare all'interno del sistema affinché questo caso d'uso abbia senso o possa iniziare. Se la precondizione non è verificata, il caso d'uso non parte, non può partire, non lo facciamo neppure partire. Faremo in modo che l'utente non possa neanche provarci, eccetera. Quindi non è qualcosa che devo verificare mentre l'utente interagisce col sistema. È qualcosa che il sistema sa a monte e sa che una certa azione non può essere fatta, oppure può essere fatta. Allora, ci sono dei casi d'uso che sono sempre possibili, ad esempio. Ci sono dei casi d'uso che invece sono possibili solamente in alcuni momenti. Ad esempio, l'invitare un nuovo giudice è solo possibile se non ho ancora aperto l'iscrizione. Una volta che le iscrizioni sono aperte, quello non lo posso più fare. Però questo già lo vediamo in qualche modo dal diagramma dell'attività. Già il percorso del token mi definisce molte precondizioni. C'è un caso d'uso che corrisponde a un'azione nel diagramma dell'attività mi dice che quel caso d'uso potrà essere attivato solamente quando il token arriverà in quel punto nel diagramma dell'attività. E se il token è già passato, è già passato oltre, oppure non è ancora arrivato, quell'azione non si può fare. Quindi, di precondizioni ci sono sempre molte, ma molte di queste sono già espresse all'interno del diagramma dell'attività. Quando è che posso invitare un nuovo giudice, visto che stavamo facendo questo esempio, beh, dopo che ho definito l'hackathon, quindi l'hackathon deve essere definito, non posso invitare un giudice per un hackathon che non ho ancora definito, e prima dell'iscrizione dell'apertura, dell'apertura delle iscrizioni, prima dell'apertura delle iscrizioni. In quel lasso di tempo è possibile quella azione, ma non perché me lo sono inventato adesso, perché l'attività di diagramma è fatto così. Allora, per evitare, di nuovo, di scrivere o riscrivere le stesse cose anni e volte, facciamoci uno sconto e diciamo che le precondizioni che sono riconducibili all'attivity diagram, non le scriviamo, diamo per scontato che ci siano, ci sono, realmente esistono, il sistema informativo ne deve tener conto, ma non so scriverle qui, con rischio di scriverle una seconda volta in modo magari leggermente diforme rispetto alla prima, e poi non so più dov'è la verità. Quindi, così come lo stakeholder, che di sicuro include sempre l'attore primario, e quindi non lo scrivo perché tanto di sicuro è così, idem per la precondizione. Tutte le precondizioni che sono di tipo, ma sì, il token non è ancora arrivato in questa azione, e quindi questo caso d'uso non ha senso farlo ancora, oppure il token è già passato e quindi il caso d'uso non lo posso più fare, immaginiamo che siano già scritte. Poi ce ne sono altre, ovviamente, che sono quelle invece che dobbiamo esplicitare. Ad esempio il fatto che, sempre rimanendo nel nostro esempio dell'hackathon, che io non posso chiedere di unirmi a un team di una persona se mi sono già unito a un team diverso. Lo dico con parole più semplici, se faccio già parte di un team non posso chiedere l'iscrizione. Quindi la precondizione al caso d'uso chiedi di unirti a un team è che io non faccia ancora parte di nessun team. Nel processo questo mi sembra che non ci fosse, questo vincolo. Cioè tu avevi l'utente partecipante che a un certo punto poteva fare la richiesta, anzi poteva farla più volte se viene rifiutata, eccetera. Allora questa è una condizione logica che vado a vedere sui dati, devo andare a vedere nel modello concettuale, nel database, questo qui è in un team o no. Quindi è come se noi andassimo a controllare i dati prima di permetterti di fare una certa cosa. E' come se tu vai allo sportello del Bancomat e la parola prelievo non compare. Perché? Perché lui ha controllato prima che ormai hai già prelevato il massimo della giornata e quindi non ti permette di farlo. Quindi non è che tu entri nella funzione prelievo e poi ti dice non puoi. Non ti fa proprio entrare. Perché è stato fatto, il sistema ha già fatto un controllo prima, pre-condizione, e poiché quella pre-condizione non era verificata, cioè non sei sotto il tuo limite giornaliero di prelievo, o mensile di prelievo, non ti permetto di attivare questo caso d'uso. Quindi questo ancora una volta ci fa capire che i casi d'uso sono un indice di possibilità, di cose che l'utente può fare. Ma non ci dice che le possa fare sempre. Le può fare se l'attivity diagram, se il processo prevede che in questo momento, a questo punto, sia fattibile e se ulteriori condizioni che possiamo specificare qua lo permettono. Ok? Quindi qui andiamoci a chiedere quali sono le condizioni per cui io dovrei cercare di negare all'utente la possibilità di fare quell'azione. Se ci sono casi di questo genere, vedete che c'è un asterisco, quindi può darsi che non ci siano, se ci sono casi di questo genere le indichiamo qua. Se ci sono casi di questo genere e non sono già deducibili, desumibili dal diagramma di processo, dall'attività. Dopodiché, finora eravamo prima dell'inizio del caso d'uso, adesso chiediamoci cosa succede a valle dell'esecuzione del caso d'uso. Cioè immaginiamo il caso d'uso come una scatola nera, vediamo che l'utente va, interagisce col sistema svolgendo quel caso d'uso e poi esce. Cosa può essere successo? Allora, io ho un campo che si chiama garanzie, success guarantees, non traduciamolo come garanzie di successo, ma dovrebbe essere tradotto come garanzie nel caso di successo. Cioè non ti garantisco che abbia successo, ma ti dico che cosa sono in grado di garantirti se tu mi dici che il caso d'uso ha avuto successo. Il caso d'uso ha avuto successo, ossia l'attore primario ha raggiunto il suo obiettivo. Allora, se l'attore primario ha raggiunto il suo obiettivo, sono contento per lui, ma che cosa significa per me, per il mio sistema informativo? lo stato del sistema informativo, i dati, il database, come è cambiato? Se mi dicono quel caso d'uso ha raggiunto il successo, io so qualcosa in più, il mio sistema informativo avrà cambiato stato. Avrò un giudice in più, avrò un team formato, un team con un membro in più. Quindi questo in qualche modo sintetizza l'effetto di un caso d'uso che ha avuto successo, che quindi ha permesso all'utente di arrivare in fondo, visto dal punto di vista del sistema, l'effetto sul sistema. forse è l'unica frase che è di tutto questo grosso capitolone di casi d'uso che diciamo a proposito del sistema. Ah, l'utente è arrivato al fondo di quella procedura, e beh, adesso hai un team in più. E quindi l'effetto di eseguire quel caso d'uso è salvato dentro il sistema, è capitato qualcosa dentro il sistema, dentro i dati del sistema. Se guardo il sistema prima e guardo il sistema dopo, mi accorgo che è cambiato. Quali sono le cose che tu mi garantisci che saranno cambiate nel sistema se il caso d'uso ha successo? Questa è la domanda che ci fa in questo punto. Quindi, qual è l'effettivo effetto, scusate il gioco di parole, del fatto che l'utente abbia interdito col sistema. Lo dicevamo anche quando parlavamo degli activity diagram, avevamo un'azione in cui dicevamo guarda che il sistema prima e dopo deve essere diverso, se no questa azione non fa nulla. Se quell'azione non lascia traccia sul sistema, non la possiamo modellare, perché non sappiamo neanche dirti se è avvenuta o no. Ecco, qui ci stiamo chiedendo qual è la traccia che sta lasciando sul sistema queste sequenze di interazioni nel caso in cui abbia successo. E nel caso in cui invece non abbia successo? Allora abbiamo l'altra voce. Minimum guarantees. Ok, se il sistema, se il caso d'uso arriva a successo ho queste garanzie. Ma se non arriva a successo, c'è qualche garanzia minima? Cioè, se vado al banco ma non riesco a prelevare i soldi, che garanzia minima mi dà? Che perlomeno non mi faccia sparire. Devo avere dei controlli per cui evito che lui mi tolga 100 euro dal conto ma non mi dia 100 euro in contanto. e questo sarebbe un problema. Che il saldo sia coerente. Qualunque cosa capiti, si guasta, prende fuoco, esplode, ma il saldo deve essere sempre coerente rispetto ai soldi che eventualmente mi ha dato. Non mi ha dato tutti i soldi che gli ho chiesto, mi ha dato di meno? Ok, però dal saldo dovrà avermi stornato solamente la parte che mi ha dato. questo stiamo ragionando non nel caso di successo. Nel caso di successo tutto va bene, ma nel caso in cui qualcosa vada storto. Allora, in qualche modo, questo non ha, ovviamente, non si applica a tutti i casi d'uso, ma solo quelli che hanno degli effetti diciamo potenzialmente pericolosi. Allora, dobbiamo immaginarci come comportarsi quando qualcosa va storto. Un esempio molto semplice, quotidiano. Mentre sto mandando una mail, il computer si pianta o il sito si blocca. Allora, mi piacerebbe che ci fosse una garanzia minima che mi dice beh, se la mail è partita ho raggiunto il successo di ciò che volevo fare e va bene. Se la mail non è partita perlomeno ce l'ho nelle bozze o da qualche parte. Quindi, sarebbe bello dire qualunque cosa succeda la mail che avevi scritto non viene persa. Allora, quella è una garanzia minima. poi in realtà non si riuscirà mai a scrivere perché qualunque è una parola un po' grossa. Qualunque cosa succeda compre una bomba atomica o altro. Però, si riesce a descrivere quali sono le misure di protezione che il sistema prende nel momento in cui si incontra qualche errore ma funzionamento di deviazione nell'esecuzione del caso d'uso. poi queste cose non vengono gratis non basta dire se succede qualcosa non perdi ciò che hai scritto non perdi la mail che hai scritto se lo scrivo vuol dire che poi all'interno ci sarà un meccanismo che man mano che la scrivo la salva da qualche parte eccetera e non mi fa andare avanti finché non l'ha salvata perché altrimenti non è una garanzia. Non può essere se ti è andata bene non l'hai persa. No, la garanzia è una garanzia. E quindi se scrivo una garanzia qua dovrò avere di implementare poi più tardi dei meccanismi per far sì che questo sia veramente garantito. Ok? Quindi questo lo immaginiamo in quei casi d'uso in cui l'effetto di un errore a metà potrebbe a metà dell'esecuzione potrebbe causare dei danni. No? Cioè se io vado a vedere il meteo e non riesco per qualche motivo impazienza non l'ho visto fine. Non ho nessuna garanzia minima che ti dica però vedi quello di ieri ma non c'è no non prega niente. Invece soprattutto sui casi d'uso diciamo dispositivi che fanno delle cose che aggiungono dei dati che spostano dei valori che attivano dei processi allora possiamo sempre chiederci cosa succede se qualcosa va storto e quali misure di protezione possiamo prevedere e poi qualcun altro dovrà implementare. L'ultima voce di questa slide è il famoso trigger di cui avevamo già accennato prima cioè qual è nel caso in cui ci sia un evento che fa partire il caso d'uso normalmente nella grande maggioranza dei casi l'evento che fa partire il caso d'uso è l'utente che decide di farlo l'utente decide di fare una certa azione l'utente decide di prelevare l'organizzatore decide di invitare il partecipante decide di chiedere di partecipare a un team eccetera la prima azione viene fatta dall'utente o ricordiamoci che nella pagina prima aveva una precondizione quindi l'utente lo fa se vuole e se può se vuole nel senso che si è dato lui quell'obiettivo adesso voglio fare questo e il sistema informativo glielo permette perché ha il ruolo giusto perché l'attività è nel punto giusto perché le precondizioni sono tutte verificate ovviamente però date queste condizioni il primo passo di solito lo fa l'utente fine allora in questo caso non indichiamo nessun trigger è l'inizio naturale l'avvio naturale del caso d'uso ma ci sono dei casi più limitati in cui il primo passo invece viene fatto dal sistema classico esempio più semplice di tutto squilla il telefono questo è il modo che ha il sistema telefono di farti venire voglia di rispondere quindi è un obiettivo che tu hai rispondere al telefono che prima non avevi e non ti sei neanche dato tu te l'ha dato il sistema ha fatto lui il primo passo poi tu sei libero di fare il secondo o non farlo fregartene fa finta di niente oppure rifiutare la chiamata oppure n cose ovviamente però il primo passo non l'hai fatto tu chi ti ha posto nel contesto di eseguire il caso d'uso non è una tua azione volontaria precedente ma è un'azione del sistema a cui tu in qualche modo rispondi o decidi di non rispondere ma in qualche modo ti hanno catapultato in quel contesto per un'azione del sistema allora quando questo succede lo indichiamo qua sotto la voce trigger cioè il caso d'uso è stato attivato non da un'azione volontaria dell'utente ma da un'azione del sistema questo di solito nei casi d'uso lo raffiguriamo qui non ne ho nessuno forse qualcuno se l'avevamo sì con una freccia che va dal sistema verso l'utente l'associazione attore caso d'uso la indichiamo con una freccia che parte dal caso d'uso verso l'utente e serve ricordarci che questo caso d'uso inizia dal sistema viene iniziato dal sistema quindi ci sarà un trigger questo è un trigger è un evento interno del sistema che spinge il sistema a iniziare questo caso d'uso un evento che di solito non appartiene a questo caso d'uso appartiene ad altri in questo caso specifico l'evento che spinge il partecipante richiesto ad accettare la richiesta di iscrizione l'evento è che un altro partecipante abbia richiesto lui di unirsi al suo team quindi quando qualcuno fa qualcosa nel sistema il sistema decide che deve rompere le scatole a qualcun altro facendoli sollecitandogli un'azione o una risposta in questo caso il trigger è è stata fatta una richiesta di unirsi al team l'evento qual è l'azione che ha scatenato ha causato questo quindi in questo caso è la conclusione di un caso d'uso questo primo caso d'uso è terminato come successo avendo fatto la richiesta e questo scatena l'attivazione di un secondo caso d'uso con un utente diverso che sperabilmente avrà anche lui arriverà successo anche lui e questo è il trigger quindi la presenza o meno del trigger di solito non di solito diciamo sempre possiamo anche assumerla come regola è corrispondente alla freccia indicata in questo verso cioè l'azione è iniziata dal sistema e non è iniziata dall'utente tutti gli altri casi che è il default del caso normale l'interazione viene iniziata dall'utente e quindi per sottinteso non indichiamo nessuna freccia qua e non indichiamo nessun trigger qua e adesso arriviamo alle azioni ok quindi ora abbiamo descritto se il caso d'uso può partire qual è le precondizioni qual è il trigger cosa avverrà se il caso d'uso termina con successo e finalmente arriviamo al punto in cui descriviamo questo attore e questo sistema come interagiscono e questo lo facciamo attraverso due sezioni una che chiamiamo main success scenario cioè lo scenario principale nel caso di successo successo lo successo continua a essere definito come l'attore primario raggiunge il proprio obiettivo e poi delle estensioni estensioni al main cioè io ho uno scenario principale lo scenario principale è il modo più semplice più naturale più diretto che mi porta al successo se tutto va bene cosa devo fare nel caso in cui tutto fili liscio non dico non è detto che sia sempre il più breve ma è perlomeno il percorso più naturale a volte c'è un percorso più breve una scorciatoia che poi magari non tutti gli utenti usano e quindi non è quello il percorso principale quindi non è tanto il numero di passi che conta ma è diciamo il percorso posso dire preferenziale forse qual è il modo preferenziale privilegiato principale ma è il principale per arrivare al risultato quindi questo sarà una serie di passi senza intoppi non ci sono degli if non ci sono dei loop cioè uno, due, tre, quattro, cinque siamo arrivati non abbiamo trovato nessun intoppo nessuna incertezza lungo la strada quindi descrivo ricordiamoci che io nel caso d'uso quando scrivo un caso d'uso sono un osservatore mi metto lì in mezzo tra utente e sistema e descrivo ciò che vedo passare descrivo le informazioni che sono passate tra utente e sistema in una di queste interazioni fortunate o immaginarie perché il sistema non è ancora costruito però non lo mi viete di immaginare attraverso una serie di passi numerati uno cosa viene fatto due cosa viene fatto tre cosa viene fatto e così via una serie di passi numero del passo punto descrizione dell'azione in questa parte in questa parte di main success scenario non ci sono dubbi non ci sono if non ci sono incertezza si va dritti verso l'obiettivo l'ultimo passo di questo main success scenario sarà l'azione che rende evidente che l'obiettivo è stato raggiunto quindi la main è stata inviata il sistema conferma che l'ultimo passo può essere il sistema conferma che il giudice è stato invitato o che il tuo invito è stato la tua richiesta di unirsi al team è stata inviata leggendo l'ultima riga del scenario principale successo si deve capire si deve vedere che l'obiettivo è stato raggiunto tutto ciò che non è nello scenario principale lo mettiamo all'interno di una sezione estensioni e le estensioni poi ci daremo una sintassi per farlo descrivono i percorsi alternativi rispetto a quello principale quindi magari nel passo 2 c'è una certa azione che azione può essere sempre informazione scambiata e quindi normalmente avviene quello ma potrebbe anche avvenire 2A un'alternativa una cosa diversa o un 2B o un 2C quindi nelle estensioni le descriviamo dicendo qual è il passo che viene modificato quindi al posto del 2 potresti fare 2A o 2B o 2C in quali casi e che cosa succede in quei casi allora lì dovrò va bene nel caso 2A succede una cosa diversa e poi si prosegue col passo 2A 1, 2, 3 con un percorso diverso questi questi percorsi diversi possono essere dovuti a due cause principali poi non tutto è riassumibile da queste due cause ma buona parte sì errori dell'utente o errori del sistema dove errori non prendetelo come una cosa brutta anomalie stranezze condizioni particolari dell'utente o del sistema inserisci nome e cognome l'utente inserisce solo il nome e non il cognome allora il passo 2 non può essere il sistema conferma il passo 2 diventa il sistema e ti dice che ti ha messo il cognome torna indietro e reinserisce quindi sono obbligato a prendere un percorso alternativo perché l'input dell'utente non era completo o corretto e quindi non posso fare il passo successivo diretto al successo perché c'è un intoppo minore la password non è abbastanza lunga però non posso andare avanti devo fermarmi lì e fare un percorso alternativo rispetto a quello di dirti ok si è registrato il sistema oppure intoppi errori del sistema che non è detto che siano errori errori sono cose che ti impediscono di andare avanti tipo vuoi creare un account e lui ti dice questo utente esiste già quindi scegli un altro allora non è un errore tuo perché come facevi sapere che un utente esisteva già tu hai messo un nuovo utente valido e il sistema si è accorto che c'era già sarebbe un duplicato e quindi non lo può creare punto ti chiede di inserire uno nuovo allora tu sei obbligato a ritornare sui tuoi passi di pensare un login diverso perché il sistema ti ha detto che in quel momento non poteva inserire quello login per un motivo valido per quello che io fatico a chiamare gli errori queste cose perché non è un errore è una condizione che può verificarsi una situazione che può verificarsi oppure a volte magari sono degli errori veri e propri se in questo momento non posso fare il bonifico quante volte andate al bancomat e dice del poli poi particolarmente aggettonati c'è qualche manca la connessione con la filiale con la banca con il server e quindi non funziona oppure bloccato o cose del genere e quindi è il sistema che non ha non può proseguire per qualche problema suo quale sia il problema suo non lo so perché come mi metto io qua a metà tra l'utente e il sistema non vedo qual è il problema dentro il sistema vedo solamente ciò che il sistema mi dice mi esprime mi manifesta dicendomi guarda che non lo posso fare oppure guarda che devi tornare indietro e riprovare qui qui non devo andare a preoccuparmi di tutte le possibili cose che possono andare storte mi preoccupo di tutte le possibili risposte diverse tra di loro non standard non diciamo lo scenario principale che il sistema può fornire a quel punto e questo come possiamo immaginare la parte delle estensioni spesso è più è più grossa o più lunga o più articolata rispetto allo segnale principale lo segnale principale è diretto lineare va all'obiettivo le estensioni ad ogni singolo passo dicono che cosa può andare storto e lì chiaramente immaginate che possono essere molte le cose per quanto riguarda i passi come li descriviamo qui abbiamo detto partiamo dallo scenario principale che è più facile poi ci preoccupiamo delle estensioni dopo ma queste regole valgono anche per le estensioni ma in questo ragionamento magari pensiamo al scenario principale scenario principale punto 1 2 3 4 azione al punto 1 azione al punto 2 azione al punto 3 e così via conviene che questi passi siano descritti in un modo molto semplice asciutto diretto chi fa cosa l'utente inserisce i propri dati il sistema conferma o mostra un messaggio di conferma l'utente seleziona la città di nascita il sistema visualizza i risultati della ricerca l'utente sceglie la canzone che preferisce o l'utente inserisce il titolo della canzone che preferisce che sono due cose diverse perché se io dico scegli scelgo da un elenco che ho di fronte se dico inserisce immagino un campo di testo in cui io devo scrivere il nome questi sono di nuovo vedo l'informazione che viaggia quindi vedo chi fornisce l'informazione che può essere o l'utente o il sistema quindi qui è vero che c'è scritto soggetto verbo oggetto ma il soggetto è o utente o sistema sono quei due vabbè se ci fossero degli attori di supporto ci sarebbero più tipi di utenti ma se no il subject è il nome dell'attore quindi posso dire utente genericamente oppure posso dire specificatamente l'organizzatore il partecipante il team o il team leader o chi è l'attore primario di quel caso d'uso e l'altro attore può essere il sistema l'altro soggetto perdono l'altro soggetto di queste frasi può essere il sistema quindi queste frasi cominciano tutte sempre o col nome dell'attore o con la parola sistema d'altronde essendo qua seduti qua su questa linea non possiamo vedere altro che le cose che il partecipante dice al sistema o le cose che il sistema dice al partecipante questo è il nostro mondo vediamo solo questo e anzi di solito il fatto che il partecipante dica una cosa al sistema e il sistema dica una cosa al partecipante si alternano in modo abbastanza rigido fisso è una partita di ping pong l'utente mette un dato fa invio il sistema riceve questo dato farà cose che non vedo e poi risponde con una videata nuova su questa videata l'utente fa un click al che il sistema elaborerà e fornirà un altro risultato se pensiamo al modo in cui usiamo i sistemi dell'interfaccia utente vediamo che quasi sempre si lavora a turni l'utente fa una cosa e fin tanto che non fa quella cosa il sistema non fa nulla poi quando l'utente ha fatto un'azione ha inserito un dato ha inserito una voce ha schiacciato un bottone allora il sistema presenta un'altra un'altra videata un'altra informazione fornisce delle risposte quindi di solito allora cosa importante è far vedere chiaramente a chi tocca da che parte del campo sta la palla l'approssimazione di chi è e di solito queste azioni sono strettamente alternate una fa utente una fa sistema una fa utente una fa sistema chi comincia beh di solito comincia l'utente nella prima interazione a meno che ci sia un trigger allora in quel caso la prima azione la fa sistema e poi da lì in avanti si va di solito in modo alternato questo è tipico dei sistemi reattivi che vanno avanti sulla base delle risposte dell'utente non è tipico dei sistemi in real time in tempo reale per cui se non rispondi un certo tempo qualcosa cambia la seconda cosa non la puoi più fare eccetera cioè un videogioco non ha questa sequenza faccio qualcosa io faccio qualcosa il sistema è più complesso non che non si possa modellare in questo modo ma non si può modellare con l'alternanza strezza delle azioni dove c'è la variabile tempo che interviene che ti mette fretta nel rispondere alle cose però sono nicchie per la maggior parte dei sistemi informativi sicuramente quelli noiosi pallosi enterprise aziendali la dinamica è quasi sempre di questo genere e in questi passi man mano che ci spostiamo dal passo 1 al 2 al 3 al 4 ci avviciniamo sempre di più al risultato ovviamente del caso d'uso ecco qua non dobbiamo l'ultima voce dice anche nel formulare queste frasi non mettiamoci mai nei panni del sistema quando io dico l'utente inserisce i dati dopo non dirò il sistema controlla che i dati siano corretti perché è vero che lo fa il sistema dopo che ho inserito i dati lui li controlla ma è qualcosa che fa dentro il sistema a me interessa dire che cosa vede l'utente dopo che il sistema ha controllato i dati quindi se il passo 1 l'utente inserisce i dati il passo 2 sarà il sistema conferma la correttezza dei dati ha fatto le sue verifiche e mi dice che sono giusti questo è ciò che vedo la risposta del sistema non che lui ha pensato che ha controllato oppure mi dirà il sistema dice che è cosa sbagliato segnala un errore nei dati inseriti ma ciò che io descrivo nel caso d'uso è l'informazione che il sistema dà all'utente dopo che il sistema ha fatto tutte le verifiche del caso tutti i calcoli del caso tutte le elaborazioni del caso e poi cosa dà all'utente magari quando l'utente schiaccia un bottone il sistema fa un calcolo complicatissimo e poi fa diventare una lucina da rossa a verde ecco di tutto il calcolo complicatissimo non vedo nulla io vedrò uno l'utente schiaccia un bottone due la lucina è diventata verde fine perché è questa l'interazione con l'utente poi ci sono dei modi di descrivere ma questo lo prendiamo più facilmente attraverso gli esempi degli schemi di scrittura che ci permettono di descrivere dei cicli dei loop delle ripetizioni cose di questo genere che però sono quasi sempre fanno parte quasi sempre delle estensioni non del percorso principale io direi che prima di andare a vedere le estensioni o questi diciamo costrutti un pochino più avanzati conviene partire con un esempio così proviamo a fissare questa struttura di questi casi d'uso e poi vediamo diciamo le loro articolazioni più complesse in un secondo momento quindi prenderei prenderei un caso d'uso e comincerai a descriverlo a vostro piacere io ho davanti questi mi verrebbero da fare questi due qua il primo e il secondo che è un trigger quindi è un po' diverso però se ce n'è uno che vi piace di più nessuno si emoziona per nessun caso d'uso e quindi facciamo questo allora partiamo da questo qui stiamo parlando di casi d'uso a livello user goal sempre nei casi d'uso a livello summary il concetto di scenario di successo non esiste perché non c'è una cosa sola a cui posso arrivare quindi tutto questo schema qua vale in particolare per i casi d'uso a livello summary a livello user goal ok allora quali campi dobbiamo indicare dobbiamo indicare torniamo indietro nelle slide e mi dice che un caso d'uso si riscrive attraverso il nome che è nel nostro caso richiede di unirsi al team grandisco un pochino poi abbiamo una seconda voce che è scope comincio a copiarne le voci poi le riempiamo così facciamo prima level queste sono le prime 4 allora use case il nome il titolo è richiede di unirsi al team questo l'abbiamo copiato level e user goal questo l'abbiamo copiato dal diagramma perché siamo in un diagramma dei casi d'uso a livello user goal questo scope l'ambito quindi questo caso d'uso è all'interno del formazione team questo è il nome del caso lo scrivo per noi per ricordarcelo che è il caso d'uso a livello summary che lo contiene quindi fin qua non abbiamo fatto nessuno sforzo abbiamo semplicemente contratto informazioni dal diagramma dei casi d'uso intention in context qua devo descrivere dicevamo l'obiettivo dell'attore primario è il motivo per cui questo avviene quindi il contesto in cui questo avviene qui diciamo richiede di unirsi al team il contesto è quindi a quello della formazione dei team prima dell'inizio dell'hackathon dopo l'iscrizione ok quindi nella fase di formazione dei team un partecipante vuole entrare a far parte del team di un altro partecipante cosa vuole e in che contesto come dicevamo è il titolo scritto un po' meglio il titolo diventa una catch una phrase una cosa molto sintetica e breve qua lo scriviamo come frase completa eventualmente aggiungendo dettagli altri campi giriamo pagina primary actor support actor stakeholder interest e precondition ok primary actor support actors e precondition l'attore primario anche questo lo sappiamo è partecipante ce l'abbiamo qua è partecipante che attiva questo caso d'uso partecipante attore di supporto questo caso d'uso richiede gli attori di supporto no quindi nessuno questo questa riga qua la possiamo anche cancellare stakeholder e loro interessi quindi devo chiedermi chi sono gli stakeholder e perché sono stakeholder oltre ovviamente al singolo partecipante uno stakeholder che c'è in questo caso sicuramente è l'organizzatore perché se lui organizza un hackathon e poi non si formano questi maledetti team e la gente non si iscrive e lui ha fatto ci fa una magra figura quindi l'organizzatore è uno stakeholder e perché l'organizzatore è interessato a che avvenga la formazione dei team perché i team si formino in vista dell'hackathon lo fa in scritto lungo questo questo contesto non vedo tanti altri stakeholder i giudici li vedo del tutto indifferenti a questo cioè loro vengono lì per dare una mano per dare giudizi poi che l'hackathon abbia successo o meno è poco rilevante precondizioni allora nei stakeholder interest ricordiamoci abbiamo non scritto lasciato sottinteso non detto l'attore primario stesso nelle precondizioni lasciamo non scritte e quindi ci sono ma sono sottintese tutte le precondizioni che derivano già dall'attivity diagram allora andiamo a vedere l'attivity diagram cosa dice qui siamo in dunque l'attivity diagram era qua no iscrizione partecipante siamo qua avevamo un'azione che si chiamava partecipante richiede di unirsi al team di un altro partecipante allora questa azione è possibile solo dopo che il partecipante si è iscritto perché se no il token non è ancora arrivato qua è possibile se le iscrizioni non sono ancora chiuse perché se per caso le iscrizioni fossero chiuse il token verrebbe distrutto e quindi di sicuro non sarebbe qua e di sicuro dopo che le iscrizioni si sono aperte vabbè anche perché altrimenti non si sarebbe potuto iscrivere quindi questo è già detto ciò che non è detto è che lui può fare questa richiesta solo se non è ancora non fa parte ancora di nessun team un po' è detto perché andando a vedere questo dice io faccio una domanda se a questa mia domanda mi rispondono di sì non posso più tornare a fare un'altra domanda e quindi questa non la potrò più fare se sono già iscritto a un team perché mi hanno detto di sì a una richiesta precedente però c'è un caso in cui io posso essere iscritto far parte di un team senza che qualcuno non abbia risposto di sì e che qualcun altro ha fatto domanda a me allora sono io che ho risposto di sì all'altro questo avviene ovviamente in un altro processo perché abbiamo un processo separato di risposta quindi qua non abbiamo fatto nulla per dire guarda che quando qualcun altro ti manda una richiesta tu butta via questa roba qua non serve più alla fine il partecipante è lo stesso io posso essere arrivato il token può essere arrivato qua potrei essere pronto per chiedere a un altro di unirmi a lui ma nel frattempo arriva X una terza persona e si chiede di unirsi a me se io gli rispondo di sì a quel punto faccio parte di un team e qui non ha più senso che chiedere ancora di far parte di unirmi al team di qualcun altro no il team ce l'ho già quindi è un po' strano forse qua potevamo farlo meglio questa parte però di sicuro questo processo non controlla esplicitamente non mi garantisce al 100% che questo token arrivi qua quando io cioè che il token non arrivi qua quando io faccio già parte di un team allora una condizione in più quindi se vogliamo elencarle tutte solo adesso che è la prima volta diciamo che le precondizioni per poter fare una domanda di iscriversi a un team sono che l'utente o meglio il partecipante si è iscritto e questo me lo dice c'è scritto qua affinché il token arrivi qua deve essere passato da là se vogliamo maggior ragione le iscrizioni sono aperte le iscrizioni non si sono ancora chiuse tutto questo c'è già nell'attivity diagram quindi fatemelo sbarrare per dire che di solito non abbiamo bisogno di scriverlo ciò che in questo caso abbiamo bisogno di scriverlo è il partecipante non fa ancora parte di alcun team perché se questo non fosse vero questo caso d'uso non ha senso non deve essere permesso a quell'utente di fare quell'azione quindi logicamente sono tutte precondizioni quelle che ho sbarrato non stiamo a riscriverle ogni volta la videota dopo cosa ci chiede è facile garanzie minime garanzie di successo e trigger allora conviene partire nel ragionamento più facile a partire dalla garanzia di successo se il caso d'uso ha successo cosa capita beh capita che lui ha mandato l'invito cioè che la richiesta di invito è stata inviata è ben poca cosa però ovviamente successo non è non mi garantisce che io entri a far parte del team perché l'altro può dirmi di no quindi la richiesta viene inviata poi l'altro magari non risponde o magari risponde di no io l'unica cosa di certo che posso dire è che questa richiesta è stata inviata se non sbaglio se non sbaglio se non sbaglio nel mio modello concettuale che ormai è vecchio di mesi avevamo una classe apposta per salvarci queste richieste chi fa richiesta a chi quindi quando io dico nel caso d'uso che la richiesta è stata inviata significa tra l'altro che nel mio modello concettuale ho aggiunto un dato in questa relazione in cui ci sarà il messaggio con cui io mi presento come sempre se compie un'azione questa azione deve avere un effetto visibile sul modello concettuale se no il sistema informativo può anche non farla se tanto non cambia nulla garanzie minime direi che non ce ne sono ma al che vada la richiesta non viene inviata non è che viene inviata un'altra persona a caso quindi non c'è nessuno in particolare non è un'azione critica per cui devo pensare a dei piani di recupero nel caso in cui qualcosa vada storto in questo caso non vedo la necessità di progettare una garanzia minima il trigger anche nessuno perché è l'utente che sceglie di invitare un altro quindi l'azione l'avvio del caso d'uso parte dall'utente e quindi arriviamo al main success scenario il scenario principale di successo dicevamo è una serie di passi numerati alternati in cui il soggetto normalmente si alterna tra utente e sistema quindi poiché questo è un caso d'uso iniziato dall'utente non ha trigger la prima parola del primo punto sarà il partecipante che è la torre primaria di questo caso d'uso fa cosa e la risposta sarà che il sistema risponde in qualche modo e noi ripetiamo questo ping pong fino a raggiungere l'obiettivo adesso stiamo progettando non che non lo facessimo prima ma ci stiamo chiedendo ok come facciamo a far sì che un utente possa mandare un invito una richiesta di unirsi al team è tutto qua c'è un visione iscritti e un richiede di unirsi al team normalmente io dovrò avere la possibilità di vedere chi è iscritto quali sono le loro caratteristiche e poi decido di unirmi la visualizzazione degli iscritti però l'avevo messa in un caso d'uso separato quindi qua non la devo prevedere nel mio caso d'uso attualmente se invece non avessi un caso d'uso separato per visione di iscritti io come prima cosa vorrei probabilmente vedere chi c'è e poi selezionarlo ma questo sì il sistema lo fa ma lo fa in un caso d'uso separato avevamo deciso di tenerli separati quindi qua arrivo a questo caso d'uso sapendo già chi voglio invitare a chi voglio mandare la richiesta perché o lo so già di mio o lo so perché sono arrivato dalla ricerca visualizzazione degli iscritti quindi l'utente sa già quindi il partecipante che sa già chi iscrivere da qualche parte nell'interfaccia dovrà selezionare un bottone una voce un menu che dice voglio lanciare un invio voglio fare una richiesta la prima azione che lui fa immaginiamo di essere nell'home page del sistema la prima cosa che devo fare è andare a qualche parte e dire voglio non abbiamo tutte le mille funzioni del sito tutte nell'home page avrò un sistema di navigazione che ti permette di attivare la funzione che vuoi quindi la prima funzione la prima azione che farà il partecipante è richiede di inviare una richiesta è brutta questa cosa ma questo richiede richiede al sistema di inviare una richiesta e una richiesta di unirsi al team questo richiede vuol dire seleziona un menu schiaccia un bottone inserisce non so seleziona un link non lo so non abbiamo ancora progettato l'interfaccia utente quindi non ti so dire concretamente che cosa sarà ma sarà un'azione che fa l'utente un'informazione che l'utente dà al sistema dicendo tra le mille cose voglio fare questa e il sistema che cosa farà quando il sistema ha capito che l'utente vuole inviare una richiesta di unirsi a un team o meglio a una persona gli dovrà dare la possibilità di dire chi è quindi quando gli dico voglio unirmi un team mi immagino che la pagina dopo sia il sistema con una casella di testo in cui io posso scrivere il nome della persona quindi il sistema predispone un form in cui inserire il nome della persona a questo punto l'utente il partecipante inserisce il nome dell'altro partecipante a cui vuole unirsi bla 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 non lo sappiamo già perché è spiegato nell'obiettivo il sistema inserisce il nome e conferma inserisco il nome in una carta di testo poi schiaccio ok invia salva o un nome del genere a questo punto a questo punto decidiamo noi se io ho scritto il nome l'ho scritto giusto e schiaccio invio parte già l'invito oppure il sistema mi fa vedere i dati di quella persona e poi mi chiede ulteriormente di confermare dipende da voi da noi lo stiamo progettando noi possiamo dire il sistema conferma l'invio della richiesta oppure il sistema mostra i dati di quell'utente e ti chiede un secondo livello di conferma io farei così perché visto che ho scritto un nome se l'ho scritto sbagliato l'invito va a quella persona sbagliata quindi direi il sistema mostra i dettagli della persona selezionata e permette di inserire un messaggio se l'avamo dimenticato il messaggio la richiesta di invito devo mandare un messaggio di presentazione in cui ti dico perché mi devi prendere con te a questo punto il partecipante fa due cose scrive il messaggio di presentazione e conferma a questo punto il sistema conferma l'avvenuto invio della richiesta quindi questo qua sono sei passi minimi di cui tre cose fatte dall'utente tre cose fatte dal sistema il sistema cosa fa? il sistema ti fa vedere cose mostra i dettagli oppure ti predispone dei campi in cui tu puoi scrivere cose non è che puoi scrivere un messaggio se sulla videata non c'è un campo in cui tu lo possa scrivere quindi affinché nel passo 5 il partecipante possa scrivere il messaggio significa che nel passo 4 il sistema ha predisposto un campo in cui il messaggio può essere scritto quindi tra le informazioni che dal sistema vanno all'utente c'è anche un campo vuoto in cui l'utente nel passo dopo potrà scrivere il messaggio questo se tutto va bene vediamo già le 100 cose che possono andare scorte qua tra cui il passo 3 inserisco un nome che non c'è o cose del genere però nello scenario principale di successo ipotizziamo che tutto vada bene e che l'ultimo passo sia sempre ho raggiunto l'obiettivo l'utente che si era dato un obiettivo intention in contest vuole entrare a far parte di un team di un altro partecipante conferma che hai fatto correttamente questo passo poi a questo punto non ti rimane che aspettare effettivamente è sbagliato l'intention perché vuole non entrare ma vuole richiedere o chiedere di entrare perché se dico che l'intenzione è di entrare questo caso di uso non mi fa entrare mi fa solo fare la richiesta poi per entrare dovrò fare in modo che questa richiesta venga accettata ok 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 allora questo è il nostro possibile scenario di successo ci prendiamo una pausa e poi vediamo come creare le estensioni possibili intorno a questo riprendiamo come ne servono cinque grazie a tutti